Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' importante perché stiamo celebrando la regalità di nostra madre, siamo arrivati fin qui dopo un processo lungo come avete potuto sentire di molti secoli. Sembra quasi impossibile che la Madonna sia stata riconosciuta ed esaltata dalla Chiesa se non proprio poco tempo fa come regina di tutto l'universo. Vi voglio dire che proprio Pio XII il Papa afferma questo, dice questo. Il fondamento e le ragioni della dignità di Maria sono state espresse in ogni età e si trovano nei documenti antichi della Chiesa. Quindi la madre di Dio è divenuta madre degli uomini e ha ricevuto dall'ultimo dei privilegi divenendo signore regina dell'universo come figlia prediletta del padre. Anche se sappiamo che la Madonna riceverà ancora altri privilegi, per esempio il famoso trionfo di cui tutti aspettiamo e che le generazioni tutte attendono per il miglioramento non solo della forma religiosa ma anche culturale e sociale. Si aspettano in molti che questo trionfo di Maria sia coincidente con il regno sociale di Cristo e tale sarà. E quindi più che scontato che data l'ampiezza della sua singolare partecipazione all'incarnazione, ella è innalzata giustamente sopra l'intera gerarchia. E la Santissima Trinità vorrà che tutte le generazioni siano rigenerate, quindi fino alla fine del mondo, mediante la sua persona assunta in cielo e gloriosamente per questo presenta l'eternità. E' una consolante grazia la sua regalità, carissimi, perché questa regalità è scaturita dalla Signoria di Dio e come regina madre, ecco, lei presenterà sempre ogni giorno al re le nostre preghiere e ci guadagnerà ogni volta di essere ascoltati e soprattutto quando meritiamo il castigo, quindi di non essere in grado di ricevere quello che chiediamo. Per questo tutto ci spinge, ecco, ad andare verso di lei, ad essere, no, suoi figli spirituali e godere del suo ufficio divino per rialzarci dalle nostre cadute e per rafforzarci nelle nostre solitudini. Io lo so, molti di voi, anche questa sera, inutile negarlo, si sente una stanchezza nel pregare, c'è una stanchezza perché il mondo preme con le necessità materiali e quelle spirituali anche chiamano e noi in mezzo a questa battaglia, se non siamo propriamente decisi, è chiaro che ci sentiamo nettamente stanchi. Allora, carissimi, nostro Signore ha conferito a Maria sin da subito una mediazione immediata, anche se subordinata alla sua, ma sappiamo che è potente, diretta e fortissima. Quindi ciò che ci fa capire Gesù, anche attraverso questo messaggio, che appare evidente che dobbiamo nutrire verso la Madonna dei sentimenti importanti. Questo desiderio io lo voglio sottolineare per coloro che, insomma, legittimamente per la legge divina della libertà individuale definiscono inutile o addirittura non patetica, idolatrica, la stima verso la Madonna. Ma se lo Spirito Santo e lei continuamente prende e lascia le sue compiagente, perché io uomo entro nell'eccesso di un tale giudizio solo perché vi sono persone che appaiono rafforzate nella loro devozione? Non è l'intelligenza che apre il paradiso, ma la bontà di coloro che la venerano e venerano questa Beata Madre e se la venereranno bene, finiranno certamente con imparare le finezze del cielo e magari con sofferenze e umiliazioni fino a toccare la vetta della santità. Mai giudicare, cari fratelli, il motivo per cui Gesù ha elevato la sua Santa Madre rendendola onnipotente in grazie e misericordie. Bisogna avere una venerazione profonda, ma io aggiungo anche, perché no, una confidenza incrollabile, perché lei ha piena compassione di noi che siamo i suoi figli e ci ama talmente tanto, come lo vediamo dai suoi messaggi, da spingersi personalmente nel prendersi cura di noi, dei nostri problemi. Quante volte la Madonna nei messaggi ci ha indicato e che lei prende a cura personalmente le nostre fatiche quotidiane, riconoscendo il peso, soprattutto nell'era moderna, la difficoltà di seguire la fede perché ci sono più sfide e continuamente dovremmo noi, appunto per questo, omaggiarla con fioretti e sacrifici, perché lei ci farà conoscere meglio la sua azione e protezione ricordandoci che il demonio ha un unico intento allontanarci da lei, dal suo rosario, proprio perché conosce la potenza della Santa Madre e dell'estensione di forza e di luce propagata dalla preghiera che a lei è tanto gradita e che santifica persino il luogo dove noi la innalziamo questa preghiera. Allora, cari amici, questa sera un incipit amarla, servirla e farla conoscere ci potrà sicuramente portare in uno stato speciale di predilezione da parte del Padre che in Maria ha visto la sua vera collaboratrice fedele e per cui quelli che collaborano con la Madre che è Regina, Vergine dell'Eucaristia anche loro riverseranno su altri fratelli i privilegi che stanno ricevendo solo il Signore tiene in grembo i suoi segreti ma ad alcuni servi che sono servi di lei lui glieli rivela anche senza parlare direttamente allora cosa dobbiamo dire questa sera? che la natura riceve grazie e beni speciali? assolutamente sì perché corpo e anima riconoscendo l'eccellenza del ruolo di Maria si dispone a svelarlo agli altri non solo a noi stessi e godrà del valore di questa santa opera cioè la fede nella Madonna servire la Madonna amare la Madonna gratificarla omaggiarla tutto questo che è riconoscenza assoluta e che gli eretici dei nostri tempi come quelli di ieri assolutamente non vogliono e negano allora questo atto interiore di stima cari amici che è una stima di profondo amore ed è un amore di partecipazione un amore filiale renderà feconda la nostra spiritualità purché non si fermi solo semplicemente ad una preghiera che non ha apparenza se non di forma deve avere un contenuto anche nell'essenza materiale quindi non c'è fede senza carità questa sera io voglio pure aprire una parentesi per quelli che dicono ah ma io ho fede però non mi espongo non faccio questo non faccio quell'altro sono in poche parole evitano così simono di fare atti di carità di bontà attenzione che la carità non è per forza dare del danaro ma è certamente soccorrere nelle necessità allora che senso avrebbe essere oppure dire di essere fedeli a Dio a Cristo alla Vergine Santa che è Regina se poi i frutti non saranno di procurare bene a vantaggio degli altri perché se noi facciamo del bene ai nostri fratelli alle nostre sorelle ma lo riceveremo anche noi quindi cari amici che onore serve la madre indipendentemente dal fatto che non prega per se stesso per le proprie intenzioni riceve sempre il centuplo perché come abbiamo già detto la Regina conosce i cuori e i cuori sanno che il cuore immacolato di Maria che regna già ipsofatto secondo un volontà dei dei allora dobbiamo fidarci completamente in questo abbandono ma attenzione perché noi costruiamo questa come dire filiale fiducia se poniamo le nostre fondamenta nel credo cristiano altrimenti sbagliamo cari amici e diciamo anche noi questa sera ricordare Virgo Eucharistia Mater Dei et Mater Nostra Dum Steteris Incospetto Domini Ut Loquaris Pronobis Bona cioè ricordati Vergine Maria di parlare bene di noi a Dio perché siamo peccadoni ma sempre tuoi figli allora cari amici se in verità noi crediamo che la Madonna ascolta la nostra preghiera vede anche le cose che non vanno bene gli atti che non salgono o le cose che restano a terra forse lo specifichiamo meglio dunque in quel momento la Madonna è come se fosse privata del suo più grande diadema che è il nostro cuore quindi la Madonna questa sera l'augurio che ci vogliamo fare è che regni in tutti i cuori ma soprattutto nei cuori dei cristiani i cristiani sono spenti sono come amorfi abbandonati non sanno più riconoscere le forme politiche le forme sociali e tutta una rendevolezza e tutta una stanchezza io cari amici vi avverto e ve lo dico questo è solo una forma preparatoria di deserto perché ci sarà un'invernata ferocissima l'anno che verrà futuro sarà pieno di prove e per quelli che ce la faranno e che non sono andati ancora al padre dovranno combattere tantissime battaglie soprattutto le madri padri per i loro figli allora cari amici questa sera attenzione voi o noi ecco se vogliamo essere più pratici che non siamo capaci di stare nel silenzio con Dio da soli non possiamo riconoscere né capire a cosa servono questi doni che Dio ha dato alla Madonna perché Dio regala a Maria questi privilegi non per lei la Madonna si li riceve ma voi sapete benissimo che se Gesù avesse predisposto altro lei avrebbe accettato perché tutto quello che Gesù vuole dall'inizio fino alla fine lei ha sempre detto Amen Amen allora questo Amen che non diciamo noi che manca a noi potremmo anche questa sera intitolare Maria Regni in tutti i cuori ma quella manca a noi purtroppo ancora è quella parte del diadema che non luccica nel cuore della Madonna ecco perché la Madonna anziché ricevere un diadema splendente ha questo cuore coronato di spine lo dice a Fatima lo dice in tutte le apparizioni moderne io soffro e come dice Gesù piede roccaino e spezzerò il cuore dell'omicida erode chi è Caino beh da sempre Caino è colui che uccide no uccide il fratello ma oggi può uccidere la moglie può uccidere i figli chi è l'omicida erode ma certamente tutti quelli che sono pro aborto innanzitutto tutti quelli che nonostante si definiscono autori e fautori del bene filantropi della vita ossessionati poi in realtà solo dalla vita per se stessi e dal bene l'esaudimento delle proprie vite quindi non hanno niente né di cristiano né di buono allora dice proprio grazie a questa regalità io ho regalato a mia madre ho conferito a lei la nomina di regina proprio perché dice lei da quel momento fino alla fine del mondo porta avanti un'armata grande che noi non neppure immaginiamo e che meraviglierà che chiaramente gli spiriti immondi i diavoli tutti quelli che sono gelosi invidiosi che dal primo momento sono lì con la bocca aperta a pensare che l'umanità sarà soltanto flagellata e siccome è un'umanità piena di idioti e beoti il diavolo è il primo accusatore e dice ah 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 guarda che cretini che ti hanno mandato al patibolo ne valza la pena morire per questi e Gesù invece già da quel momento risponde sarete meravigliati perché perché ci sarà uno scenario che cambia cari amici ci saranno degli uomini che odieranno se stessi pur di seguitare nella parola di Dio cioè pur di non come dire andare oltre lasceranno e al contrario altri invece vivranno nel male ma saranno sempre un numero inferiore rispetto a quello che la regina immacolata riuscirà ad ottenere al paradiso quindi ciò dice Gesù che è stato rubato tu usurpadore che lo sai lo dovrai lasciare e se non lo lascerai attraverso quelli che ti sei presi lo lascerai nelle generazioni che invece nel segno di Maria daranno frutti di grande spiritualità allora cari amici non siate tristi io lo so che ci sono tante sofferenze che affliccono ma d'altronde ogni secolo ogni tempo ha avuto i suoi mali noi abbiamo i nostri i mali moderni gli altri hanno avuto i loro mali ma mai essere tristi rimanere nella gioia perché la tristezza il male assoluto diceva Don Bosco con cui il demonio vuole attrarvi verso l'inferno ogni giorno di più anche oggi per me è stata una giornata terribile anche oggi si sono rotte tantissime cose tubi bidet eccetera è iniziata malissimo la giornata allora stamattina nonostante fossi e sono mi sono anche tanto arrabbiata perché mi accorgo di come la gente veramente vive una demenza non senile ma proprio vivente sono come dei morti che camminano perché devono consumare queste vacanze allora poi capisci perché aprono gli ascensori e non vedono che il van è arrivato e cadono giù cioè perché stanno sempre al cellulare assonnati ammorbati da mille loro desideri e alla fine non sanno manco né come iniziare questa giornata e neppure appunto come finirà allora cari amici non lasciamoci portare di qua e di là come quelle barche che sentiamo in questi giorni sbattute dai temporali dal vento perché voi lo vedete lo state capendo la natura partecipa di questa rivoluzione universale non può negare la natura a Dio il diritto della ira Dio è arrabbiato non secondo l'idea umana o come quella che potrebbe avere un animale ferito ma l'ira di Dio in questo caso va intesa come un'ira giusta guardiamoci a destra e a sinistra davanti e di dietro tra prostituzione tra demenza tra egocentrismo arroganza uomini che si vestono da donne donne che si vestono da uomini personaggi ignoranti che si fanno dottori dottori che non valgono niente ma operano in questo caos in questa confusione tremenda volete che Dio non abbia e non eserciti la sua ira la natura lo sente certamente sappiamo anche che buona parte è il lavorio dell'uomo ma cari amici quando arriva l'ora Dio lavora e quindi anche se in questo momento diciamo così c'è anche un consenso umano nella cattiveria nell'odiare nel fare il male c'è pure il consenso di tanti bravi uomini e donne al di là del fatto che siano cristiani che questa volta non gliela vogliono dare vinta al demonio e che si battono per i diritti e le libertà che sono libertà di giustizia diritti ovviamente che rispettino tutti gli esseri umani e allora cari amici in questo sperimenteremo la regalità della Madonna e come Padre Colbe anche se ci dovessero condannare a morte non abbiamo paura di morire allora se ogni giorno Gesù ci chiede di morire un pochetto qual è il problema se abbiamo questo dolore è perché non abbiamo conosciuto né Gesù né la Madonna e allora ci sembra che Gesù ci ferisca o ci punisca in realtà il buon Gesù ci sta soltanto facendo il favore di avere ascoltato le nostre preghiere quando gli abbiamo detto Gesù io voglio darti questo voglio farti quest'altro qualche volta Gesù ci prende sul serio e ci fa assaggiare qualche dolore allora quando gli riceviamo questi dolori attenzione che non siano frutto delle mie colpe dei miei peccati quindi a questo punto sono solo una somma che ricevo perché lo ottengo a causa di quello che combino io ma se è una grazia di qualche cosa che mi arriva inconsapevolmente sappiate che stiamo partecipando semplicemente a quello che abbiamo noi stessi chiesto e Gesù ci sta ascoltando questo vuol dire che a breve da quella partecipazione ne verrà una grazia quindi quelli che si perdono di fede e di fiducia che subito dicono ecco ho pregato per quella persona quella persona è morta e allora pregare per una persona non vuol dire soltanto pregare finché è nella vita terrena ma pregare vuol dire accompagnarla nel percorso quindi quelli che credono in Dio sanno che dopo la morte si apre un percorso quindi pregare vuol dire proprio in quel momento accompagnare con carità quindi cari amici non siamo come dire mezze cartucce un poco cristiani e un poco materiali e poi voglio anche aggiungere un'altra cosa essendo tempi questi specialissimi come Gesù e la Madonna ormai da tantissimi anni ci fanno capire che sono cerchiamo di sfruttarli allora quelli che sono in una strada cattiva o quelli che dicono io ho ricevuto da Dio questo o quell'altro però il progetto non si sta a tua attenzione cari amici perché il demonio crea anche vertiginosamente nella testa di alcune persone delle cose che non esistono allora prendete spunto nel momento in cui capite che non si sta realizzando niente che se opera di Dio Dio farà se non è opera di Dio quell'opera cesserà immediatamente ed è stato solo farne dicazione di qualche mente non dico malata ma frustrata sicuramente allora cari amici veri cristiani non se le fanno queste domande ma si abbandonano a Dio la vita ogni giorno porta e porterà sempre dei pesi e come facciamo a portare questi pesi cari amici se non la mattina con un atto bellissimo di abbandono è vero o non è vero che nostra madre conosce tutto di noi quando la Madonna è apparsa i primi giorni già mi aveva detto che non solo conosceva tutto di me ma sapeva anche l'ultimo giorno della mia vita allora io non è che sono stata lì a chiedere ah sì ma quando sarà allora no assolutamente perché se la Madonna sa tutto io mi fido di lei e con lei procedo dalla giovinezza fino all'età che vorrà forse ci arriverò in sedia a rodelle forse ci arriverò in piedi forse ci arriverò non lo so come ci arriverò certo voglio arrivare con un cuore colmo d'amore perché in qualsiasi status io mi trovi ciò che vale e che mi aprirà la porta non solo del paradiso ma del ben morire oltre che del ben vivere prima di morire sarà l'avere generato amore e chi ama non sbaglia mai ma chi è che ama la persona che è generosa allora se tu ti continui a chiedere come quando sarà accadrà si farà questo problema il mio lavoro è chiaro che abbiamo necessità incombenti ma chiaramente cari amici se io dovessi essere il vostro padre spirituale vi direi che c'è qualcosa che se non state ottenendo o state chiedendo male o non la state facendo funzionare perché le grazie la madonna come promette le dà e se le dà vuol dire che le riceviamo se non le abbiamo ottenute è perché c'è qualche cosa che stiamo sbagliando nel nostro percorso spirituale il percorso spirituale come ci comportiamo tutti i giorni è con il carattere con la consapevolezza con la mente con la volontà ovviamente riproducendola negli affari del mondo perché se io sono una tipa un tipo senza coscienza c'è poco da fare potrò avere un po' di successo ma alla fine il mondo la carne il demonio mi daranno il loro conto quindi non c'è scampo per nessuno né per i magnati né per i ricchi né quelli che si fanno i furbetti ma ci raccontano la vita di chi è passato già dall'altra parte per esempio pensiamo a personaggi che sono stati importanti riconosciuti nell'ambito del cinema della letteratura che cosa dicono all'ultimo soprattutto periodo della vita se non capiamo che le cose più importanti sono la Madonna gli affetti quindi la famiglia e perché no anche i nostri animali che Dio ci regala come una grande compagnia perché questi fratelli nostri piccoli sono stati dati da Dio perché l'uomo da solo non poteva vivere non ha dato all'uomo solo una donna ma ha dato anche creature dall'uomo e dalla donna che fossero come loro e altre creature che li aglietassero nel loro vivere allora quanto i loro giorni non fossero stati sempre felici allora cari amici cosa c'è di più bello se non guardarci a 360 gradi e godere di quello che Dio ci ha dato abbandoniamo le cose di questo mondo perché come bene la Madonna questa sera ci insegna e Gesù la sua regalità va oltre il tempo e lo spazio e a memore di logica la Madonna ha avuto questa attribuzione semplicemente essendo una povera anima che però ha sempre detto sì non si è mai domandata ma sempre soltanto risposto come vuoi tu padre so che è dura cari amici non è sempre facile proviamoci forse magari esce in mezzo a noi qualche buon santo qualche piccolo santino tra i nostri figli perché no io credo che la Madonna si attenda dopo tante preghiere anche se qualche volta fatte sbadatamente male come quel latino quando diciamo pater pauperum e pauperum che vuol dire padre dei poveri non storpiamo questo latino per piacere oppure iudici no e iudici che vuol dire giudice colui che giudica so che queste parole magari stridono ci danno fastidio no però anche imparare il latino e capire come quelli che ci hanno preceduto hanno dato non solo attraverso il latino alla liturgia della chiesa tutto l'onore a Dio che si doveva ma noi ci rendiamo conto in quale grande povertà siamo caduti ahimè oggi che non sappiamo manco conoscere certe parole certe attribuzioni ma bando alla nostra conoscenza ciò che Gesù ci dice che non sono gli intelligenti che aprono la porta del paradiso ma sono quelli buoni di cuore che hanno un cuore grande 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 allora cari amici questa sera io vi ringrazio anche per le preghiere che fate e che dite e mi raccomando non pensate alle cose di questo mondo e perché poi quando le cose di questo mondo vi danno qualche dolore voi sarete in grado di pesarle per quello che sono le cose di questo mondo restano a questo mondo ma se in questo mondo voi valutate le cose del cielo anche se siamo povere creature non possiamo no cambiare certe cose altre ma di sicuro alcune altre ancora le possiamo modificare come con la pazienza con la gentilezza e con un grande spirito di fortezza di grande fiducia in quale che ci abbraccia ci tiene tra le sue mani e ci dice figli miei fidatevi di me tutto Dio ha messo nelle mie mani allora ringraziamo questa grande regina e aspettiamo che ci siano date tutte le benedizioni di cui siamo correnti saluto come sempre tutti quelli che sono nella sofferenza non perdetevi d'animo e mi raccomando lasciate perdere tutte quelle tentazioni quando c'è qualche spiritello che nell'orecchio vi dice ma dai togliti la vita tanto sei brutto cattivo storpio non ti ama nessuno magari sei in carcere sei finito magari pure ingiustamente non lo fare perché se l'uomo ti ha dato la possibilità del carcere anche se il carcere è duro pensa a Dio che altre possibilità può darti quindi se resisti in quel momento e passerai giustamente il tempo di quella prova che magari poi si accorcia vedrai dopo ringrazierai mille volte non solo il Signore ma anche la tua fortezza e anche quelli che hanno pregato per te allora avanti coraggio con spirito di preghiera e ringrazio quelli che giustamente ci aiuteranno nel realizzare questo progetto anche di salvaguardia degli alberi di celeste e verdura noi stiamo aspettando di mettere mani anche perché deve finire anche questo grande caldo altrimenti non possiamo accarezzare queste fronde di olivo e aiutarli perché ci sembrano veramente quando andiamo a guardarli perché domani 23 parteciperà alla preghiera comunitaria si accorgerà che sembrano un po' come dei grandi fratelli ammalati che hanno bisogno di essere abbracciati amati e coccolati bene io vi ringrazio e vi saluto con tutto il cuore e non fa niente se domani farà ancora caldo farete ancora sacrifici riceverete tante umiliazioni che ve ne importa sorridete alla vita Maria Regina nostra madre vi carezzerà e vi darà un bacio perché siete stati pazienti ed accoglienti siano lodati Gesù Giuseppe e Maria e vi darà un bacio il tuo caro figlio splendor del Cielo. Volce Gaudio, stupenda grazia, tuo figlio ci abbraccia. Nel sacramento d'amor e oracolo, nel suo tabernacolo, come nel cenacolo, egli arde d'amor. Oh, 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 oh. Nel Cielo, nel silenzio, sotto le apparenze, Dio mi sostanza, Gesù si fa prigioniere. E nell'ossia, in ogni frammento, il Dio della vita è la tutto in te. O Vergine dell'Eucaristia, dolce Maria, paterna del sacro cuore, tu ci offri con nobilità il tuo caro figlio splendor del Cielo.